Questa è la nostra prossima tappa del tour delle periferie, casa per casa, strada per strada, che nonostante Piazza Mercato si trovi in perfetto centro, ha delle caratteristiche comuni alle periferie. Da circa un anno i giovani democratici di Foggia si stanno occupando delle periferie, facendosi portavoce degli abitanti per portare all'attenzione di politica e cittadini le segnalazioni dei residenti che ogni giorno affrontano disagi di vario genere, cercando di condividere con loro possibili soluzioni. L'ultima iniziativa è denominata tour delle periferie, casa per casa, strada per strada, ed ha come prossima tappa proprio Piazza Mercato. Ci troviamo qui perché riteniamo che questo possa essere un luogo e un'opportunità per tanti ragazzi. L'Infopoint, che si trova in fondo alla piazza, può rappresentare davvero un'opportunità, un luogo di crescita culturale e sociale. Potrebbe diventare una biblioteca per ragazzi, una biblioteca per studenti, un luogo dove confrontarsi e crescere. Già in passato è stato investito, è stato utilizzato come luogo, come sede per il forum degli studenti. Adesso noi riteniamo che sia importante investire su questa struttura, al fine di rendere un luogo gestito da noi ragazzi e di rendere un luogo che possa far rivivere la piazza non soltanto di notte, ma anche durante il pomeriggio e durante il giorno. L'obiettivo nostro è rendere più bella e più visibile questa piazza, che venerdì e sabato, durante il fine settimana, non si riempie solamente di ragazzi foggiani, ma come sapete Foggia è anche una grandissima città dove ospita parecchi studenti Erasmus, la maggior parte degli studenti Erasmus viene in questa piazza, quindi è giusto che comunque questa piazza rimanga come un buon ricordo agli occhi degli studenti che vengono da fuori a studiare in questa bellissima città. Foggia ha anche delle carenze, però queste carenze possono essere colmate. L'importante è che noi ragazzi diamo un buon esempio, cercandola di migliorare il più possibile questa città.